Torna oggi a Catania, mi illumino di meno. L'amministrazione comunale ha infatti aderito alla quindicesima edizione della campagna nazionale ideata dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 per sensibilizzare su risparmio energetico e stili di vita sostenibili. Numerose le iniziative promosse nell'arco di tutta la giornata sul tema di quest'anno, l'economia circolare e su risparmio energetico con il suo momento clou alle ore 18 di oggi con lo spegnimento dell'illuminazione di Piazza Duomo, della facciata di Palazzo degli Elefanti e dei candelabri di Piazza Università. Il riciclo e l'economia circolare, finalizzati al riutilizzo dei materiali e alla riduzione degli sprechi, sono stati al centro delle iniziative svoltesi questa mattina in Piazza Università. Mostre e laboratori tenuti dai docenti del liceo artistico Emilio Greco, attività didattico-espositive proposte dal minibus elettrico dell'AMT, letture e scambio di libri a bordo dell'autobook e libri in circolo dell'assessorata alla cultura e ancora iniziative promozionali e didattico-educative curate da varie associazioni. Alle 18.45 l'attivazione della postazione telescopica per le osservazioni della volta celeste a cura dell'Associazione Etna ed Intorni e CAI Catania. Allora i ragazzi, il tema di Milumino di meno quest'anno è il riuso, quindi dare nuova vita ai vecchi oggetti di utilizzo quotidiano. Quindi i ragazzi stanno utilizzando degli oggetti come il brick del latte del succo di frutta, i barattoli di latta, trasformandoli in nuovi oggetti e quindi dandogli una nuova vita in modo creativo. Abbiamo utilizzato i brick del latte per creare delle piccole casette da mettere sul balcone per gli uccellini. Invece i barattoli di latta stiamo facendo dei portapenne o degli oggetti che possano essere riutilizzati nuovamente. Grazie a tutti.